L'ondata di maltempo annunciata qualche giorno addietro ha colpito nuovamente la Sicilia. Una perturbazione di origine artica in arrivo sull'Italia dal Mediterraneo occidentale che ha portato a un brusco calo delle temperature e neve anche sull'isola. Condizioni meteo destinate a perdurare buona parte della settimana. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse che prevede allerta gialla per il rischio idrogeologico localizzato, oltre che sulla Calabria, Basilicata, parte della Puglia e dell'Umbria anche nei settori settentrionali della Sicilia. Si tratta di un normale peggioramento di stampo infernale che non ha nulla a che vedere con l'ondata di freddo del weekend dell'Epifania, si legge sul sito del meteo Caltanissetta. Dopo il calo delle temperature nella notte tra venerdì e sabato per via dei venti maestrali che hanno fatto acuire maggiormente la sensazione di freddo, domenica mattina e nel pomeriggio a Caltanissetta si è assistiti a brevi nevicate, così come a San Cataldo, a quote superiori a 600-650 metri, nevicate anche a Mussomeli. Le piogge moderate hanno interessato il corso della giornata in città, così come nel resto della Sicilia centro-occidentale. Una bufera di neve invece domenica pomeriggio a Piano Battaglia ha bloccato una cinquantina di famiglie. È stato necessario l'intervento della Protezione Civile Provinciale, del soccorso alpino e della forestale. Alcune macchine sono rimaste intrappolate nella neve e altre, senza catene, hanno bloccato la strada che porta a valle. Un'auto è finita contro un mezzo spalaneve, rimanento incastrata. Disaggi per la neve anche nelle Madonie e nell'Ennese. Per via delle temperature rigide a Catania è stata realizzata una tendopoli per ospitare senza tetto. Analogo tempo di domenica a quello previsto per la giornata odierna, con un miglioramento in serata, così come previsto da meteo Caltanissetta. Pioggia mista a neve anche nella giornata di martedì.